Amici di Arcoiris, benvenuti a leggere negli occhi la rubrica cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. L'ospite di oggi si chiama Paolo Galassi ed è un piacere presentarlo perché nel sottotitolo del suo libro si legge la vera storia del più conosciuto tra gli artisti sconosciuti, che mi sembra una presentazione ottimale. Paolo nasce nel 1972, è Cesenate, un romagnolo come me, e ha cominciato nel suo periplo di artista come fondatore di etichette discografiche, Soul Man Click Entertainment e Mobility Records. Poi alla fine degli anni Ottanta ha cominciato anche il suo percorso di musicista con il suo gruppo nell'ambito del rap e la sua presentazione del suo libro biografico è molto interessante perché dice irriverente, passionario, anticonformista, opera attivamente come professionista da oltre 25 anni nei più svariati contesti di carattere creativo, pseudonimi a livello internazionale, artista eccentrico e sensibile dal passato palesemente oscuro, è cultore, sperimentatore di ogni forma d'arte ed espressiva in genere. Scusate se è poco per interessarvi a questa conversazione perché come vedete il personaggio presentato almeno qua lo merita. Poi nella sua ricerca artistica ovviamente prima o poi ci si scontra anche con altri modelli di comunicazione, infatti è anche un film maker, ti chiederemo di raccontarci le tue attività in questo senso, fino a giungere anche a qualche anno fa, precisamente nel 2005, a presentare i suoi mediometraggi alla mostra d'arte di Venezia, di cinematografica di Venezia. Bene, insomma tantissime cose da dire, però prima di iniziare chiediamo a Paolo, come facciamo sempre, di introdurci al suo libro che vi faccio vedere, si chiama Stop, Rewind, Replay, strano titolo ma ci sta quando si parla di autobiografia. Allora Paolo raccontaci chi e cosa incontra chi si mette in Stop, Rewind, Replay? Allora innanzitutto incontra una persona che non c'è più, il mio io è finito, diciamo come dicevo anche durante la presentazione non è solo un'autobiografia, è un po' come una barra ben impaginata nel senso. Un commiato. Sì, un commiato, ho deciso di scriverla appunto prima di tutto per la ricchezza di eventi che mi sono capitati in questi 30 anni. La vita è un romanzo diceva il famoso spagnolo. E poi perché per me rappresenta anche la chiusura di un ciclo. A parte quello sto facendo anche una campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e droghe da parte dei giovani e chi legge il libro si rende conto che io sono veramente la rappresentazione vivente di... Un po' come Sant'Agostino che prima ha provato tutto, poi nelle confessioni ha cercato di chiudere un po' il cerchio. Il fatto è che se sono riuscito a cambiare io, se sono riuscito a cambiare strada io, allora ce la può fare... Possono farcela anche altri. Benissimo, avete già capito che ci introduciamo in un libro molto particolare. L'impianto, come ci ha annunciato Paolo, è autobiografico e al di là della precisazione di tanti argomenti che lo compongono, tanti argomenti forti su cui è basato, volevo proprio chiederti un concetto più largo sul tuo libro. Perché un argomento, una modalità così fuori moda come l'autobiografia? Nessuno più la scrive, neanche i famosi, Veltroni scrive romanzi, abbiamo letto l'anno scorso un libro indimenticabile, concedetemi questa citazione fantastica, un romanzo di Licciacolò che raccontava la vita col suo gatto, dico ma sono esperienze indimenticabili, quindi come mai scegliere l'autobiografia quando apparentemente non ci si dedica più nessuno? Perché volevo lanciare un messaggio che era appunto legato anche al discorso della campagna sulle droghe e sull'alcol, però avevo bisogno anche di fare per me un punto della situazione ad oggi, un libro si scrive per tanti motivi differenti, questo era il mio modo prima di tutto per dire a me e per ricordare a me cosa sono stato e cosa non sono più oggi. Il tuo voglio dire che nella lettura si appresta tantissimo il carico emotivo, si sente quanta affettività hai messo sia nel libro ma anche nella tua vita precedente perché in fondo è un incontro con tantissime persone alle quali ti sentivi molto legato o anche per le quali hai una certa amarezza perché non sei riuscito ad approfondire racconti così. La cosa che mi incuriosisce perché sono tanti personaggi che non sono più personaggi appunto parliamo di vita vera, c'è ad esempio il personaggio della nonna che è tenerissimo veramente connota alcune pagine in maniera affettiva molto belle, di tutti i personaggi di cui parli, tanti compaiono anche nomi famosi, quale è quello su cui hai speso più te stesso nello scrivere? Non dico tanto nell'incontro ma quale personaggio tu ritieni fondante in questo libro per la tua storia? Mia madre e la mia famiglia. Più di tutto, nonostante tutto si finisce sempre lì. Perché è partito tutto da lì, sì sì sì. Si finisce sempre lì. Anche se vogliamo interpretarlo dal punto di vista freudiano però sì sì è partito tutto da lì, da una difficoltà di comunicazione, da un abbandono che poi non è stato un abbandono, è stato praticamente il motivo scatenante principale di tutto quello che poi è stato lo scorrere degli eventi della mia vita. Famiglia che in qualche modo però cercavi sempre di ritornare e trovando qualche volta accoglienza più spesso meno accoglienza. Sì, io avevo questa sorta di rancore nei confronti di mio padre e di mia madre perché mi avevano abbandonato e per gran parte della mia vita ho pensato al fatto che fossi stato per esempio il figlio della colpa. Questa cosa ha creato in me, sono sempre stato una persona molto molto sensibile, questa cosa ha creato in me degli squilibri molto forti che mi hanno poi indotto ad agire in determinati modi. Come potrete leggere nel libro in modi molto spesso eccessivi e nel mondo della creatività ma anche dell'esagerazione. Comunque non voglio dire più di tanto perché è un libro che proprio coarta a leggere perché le storie sono talmente così intersecate l'una con l'altra e rapide che hai sempre voglia di leggere. Senti, una cosa che è molto caratteristica in particolare ovviamente per chi si occupa di comunicazione, possiamo dirlo come te, è il fatto che sei abbastanza polemico col mondo dei media e per noi che cerchiamo di essere una tv un po' diversa dal solito, cercare di dire qualcosa non troppo sui binari del doveroso e basta, è una cosa molto interessante. Una cosa che mi ha colpito a pagina 58 del tuo libro… Sì, non sono polemico nei confronti dei media, i media sono il futuro… Sulla nostra vita, sì, no, assolutamente, assolutamente. Sono polemico su alcuni tipi di utilizzo che molte realtà fanno dei media e dell'informazione, quello sì. A proposito, citi a un certo punto che hai avuto dei problemi con striscia la notizia, però non ci racconti quali, puoi dire a Arco Iris oggi, non ce lo racconti. Guarda, allora con striscia la notizia ho avuto dei problemi, sì, in funzione di un film che feci nel 2007, adesso ci sono ancora delle… sta iniziando il processo adesso, quindi non posso dire niente perché… Più di tanto, certo. Andrei… no, no, io ho avuto dei problemi con striscia la notizia perché c'è stato qualcuno che mi ha mandato striscia la notizia, io rispetto il lavoro di striscia la notizia, la seguo, la seguirò sempre e comunque e basta, poi quello che succederà… Non solo per le veline comunque, non solo per le veline ma anche per le notizie. ho incontrato Moreno Morello, una persona che stimo, cioè un professionista che stimo, quindi quello che succederà, succederà adesso, nelle serie opportune si deciderà. Se non l'hai voluto raccontare qua non ti obbligo, era una curiosità. Ma no, ma a parte quello perché è una cosa che è successa poi l'anno scorso, l'anno scorso, il libro si ferma molto prima. Sì, sì, sì. Senti, la vena polemica l'avevo notata non tanto nei confronti dei media ma a un certo punto tu parli dell'opinione pubblica e la definisci morbosa. Quindi dov'è lo sbaglio tra il comunicare in maniera seria e corretta e il ricevere in maniera seria e corretta? Per cui c'è solo un'ipertrofia del visibile e non del profondo. Ma allora, è sempre legato al discorso. Bella questa scusa. Sì, sì, questo è bellissimo. Sempre legato al discorso che facevo prima. Sono dell'idea, ma questa è una mia opinione personale, che non ci sia più un modo cosciente da parte dello spettatore di vivere le notizie, per esempio. C'è invece un sempre crescente tentativo che riesce nella maggior parte dei casi da parte dell'informazione o dei determinati tipi di media nell'educare e nell'imporre la propria idea allo spettatore. è come se lo spettatore non vivesse più quello che vede come una cosa reale, ma lo vive come una... Ecco, mi sono confuso, scusa. No, no, ma il discorso è molto chiaro. Non c'è più uno sguardo critico su quello che c'è assorbi. Quello che viene è, cioè quello che viene proposto viene accusato come realtà dallo spettatore. E' infatti quello che cerca di fare. Il contrario di questo, di chi si è appropriato di televisioni e giornali sapendo benissimo come si può manipolare il consenso, Arco Iris cerca di fare qualcosa di diverso. Il discorso che affronto nel libro è molto semplice, è vero, ormai lo spettatore, il lettore sono indotti a... devono prendere quello che c'è, devono prendere quello che c'è. Anche solo l'arte, i media non danno più stimolo all'arte, non danno più spazio all'arte, tendono a proporre sempre, solo ed esclusivamente pacchetti artistici, no? Quindi un artista lo vede in tv perché ha una tale produzione alle spalle, perché ha un certo tipo di supporto economico alle spalle e soprattutto la produzione che ha alle spalle o il management che ha alle spalle ha contatti continui con la tv che lo manda in onda. Vediamo sempre le stesse facce e sempre gli stessi artisti da sempre. E questo è un po' un paradosso dei nostri tempi, che il mercato non è deciso da chi lo fa, cioè da chi deve acquisire l'acquirente, è deciso a monte che decide come deve essere il mercato, quindi è tutto un po' una situazione manipolata. Proviamo a guardare la musica. Le radio dovrebbero passare brani che sono richiesti dal pubblico, dall'ascoltatore. Invece noi ci troviamo sempre dei pacchetti per mesi e mesi di artisti che sono in promozione. un artista indipendente che esce con un'etichetta indipendente non avrà mai la possibilità economica di passare su network nazionali, farà magari sempre le radio inferiori, le radio minori, però non avrà mai quella visibilità. E la radio, quindi cosa fa? Obbliga l'ascoltatore a seguire quello che gli propone. Quello che viene prodotto. Non c'è più libertà di scelta, tra virgolette, se non forse spegnere la radio, ma questo è un peccato. No, 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 perché? È un peccato. È più che altro una questione di coscienza, secondo me, che si sta perdendo, da parte degli operatori e da parte anche del pubblico. Noi sentiamo delle canzoni, dei brani a volte ridicoli, perché ci sono anche i brani ridicoli o assurdi e ci ritroviamo, che proprio non sopportiamo, sai quelle cose che ti irritano? E poi ci troviamo a canticchiarle volenti o nolenti, in macchina, sotto la doccia, per strada, oppure la senti un attimo e la ripeti. Questo si chiama induzione di massa. Esatto. La tua visione dell'arte, visto che hai un po' anticipato questo argomento, è molto diversa da quella di cui abbiamo parlato finora. Vorrei leggere ai nostri ascoltatori qualche piccolo estratto e poi chiederti di commentarlo, anche se devo dire che si commenta molto da sé. A pagina 127 Paolo Galassi scrive, sono dell'idea che un artista sia una persona illuminata, capace di dar vita all'inesistente, di far provare emozioni e sensazioni che sino a poco prima erano semplicemente nascoste dentro di lui. Sono convinto, perché a me capita questo, che l'artista non crei nulla, ma riesca invece a ricostruire e far uscire da sé stesso ciò che è sempre stato nascosto ed insito nella sua anima. Prima, dicevi, l'atto della creazione, che si tratta indistintamente di un dipinto, musica, sceneggiatura, di film o di libro, è sempre stato per me un momento magico, mi ha sempre messo addosso una sensazione di potenza e benessere, mi permette di far fluire all'esterno e condividere con gli altri tutto ciò che è di più profondo, bello e terribile o dentro. Quindi la tua visione dell'arte è secondo me divisa perfettamente al 50%. È mistica. Però è, io faccio e tu devi vedere, giudicare, gioire o discutere o negare e credo che sia poco frequente, perché molto spesso ci troviamo per esempio qua, ospiti, ma poi lo vediamo tutti i giorni nei media, chi fa la sua produzione culturale, libro, film e poi basta. Del fruttore non ne frega niente, se non in termini di... Sì, 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 di meravigliare. Economici. Ecco, invece la funzione fondamentale, come dici tu benissimo nella parte seconda che ho letto per prima, è quella di aprire un mondo. Permettimi di citare uno dei miei miti che è Pasolini, che diceva che lui scriveva per dare stile al caos. Per me questa è una definizione che mi è venuta dentro, mi si è radicata e non riesco più a liberarmi, perché definisce perfettamente secondo me quello che è l'attività fondante di un artista. L'arte deve essere condivisa, non... Altrimenti... Il libro si ferma un po' prima, è appena accennata, ma di questo la mia curiosità cresce. Che cosa sono adesso i tuoi lavori in arrivo? Su che cosa ti concentri? Allora, i lavori in arrivo, adesso stiamo cercando di riprendere il film che è stato interrotto nel 2007, però prima dobbiamo sanare le esposizioni e quello che sta succedendo anche a livello legale, quindi ci stiamo lavorando ininterrottamente da un anno e mezzo, vediamo cosa succede, ci sono tutti i presupposti... È un lungometraggio, è un lungometraggio, un drammatico, è praticamente lo stesso film che è stato fermato nel 2007 e spero con tutto il cuore di poterlo riprendere entro la fine dell'anno. Realizzare, lo speriamo anche noi, perché se c'è la vita, la passione, il desiderio che anima il tuo libro... Anima il cuore, però. Bene, bene. Senti, a proposito però, questa insomma rimane una rubrica letteraria, quindi dobbiamo parlare del tuo libro. A un certo punto sono rimasto colpito dal fatto che definisci il tuo libro come un piccolo veicolo di autoanalisi e questo lo hai un po' anticipato prima. Beh, per me è un grande veicolo. Per te, ma anche per gli altri, per te e per gli altri, davvero credi che la lettura di un libro possa migliorarci, possa cambiare qualcosa, che possa essere una terapia psicologica non solo per l'autore, ma anche per chi l'ha, io la risposta la so, però lo chiedo a te se ci credi davvero. Io ho una mia filosofia, una mia idea, voglio dire, io analizzo sempre ogni cosa che mi viene detto e proposta, ogni cosa che le mie orecchie sentono e i miei occhi vedono e su tutto faccio un'analisi costante e continuativa, se lo faccio io penso che lo possa fare chiunque, l'importante non è l'autoanalisi, l'importante magari è che qualcuno possa trarre vantaggio anche solo da semplici opinioni, da semplici messaggi e comunque dal momento che leggi determinate cose, se ti rispecchiano o non rispecchiano la tua visione delle cose, una piccola analisi la fai, anche autoanalisi, perché fai a confrontare… Si dice che la pagina è il principale antagonista psicoanalitico, con quale ti confronti. Secondo me… Ascolta, ci sono due cose che mi hanno particolarmente colpito nel tuo libro e che mi danno anche interesse. Nelle tue esperienze così convulse, frenetiche, così goloso di vita ma con sofferenza come viene raccontata la prima parte della tua vita nel libro, c'è tantissima violenza, c'è minaccia costante, c'è timore e anche violenza fisica. È indispensabile in un certo mondo, in quel mondo che tu hai frequentato che fosse così sempre minaccioso o è stato funzionale al desiderio di raccontare la storia o era proprio così? No, allora, la violenza c'è, c'è stata ed è stata descritta solo in parte. Quando inizi ad entrare in determinati ambiti e frangenti, quali quelli della droga per esempio, della cocaina, tutto quello che ti accade, ti accade in funzione di quello, quindi le conoscenze, e quindi i giri viziosi, quindi sei portato comunque a… se vai in chiesa incontrerai nella tua vita solo gente della parrocchia, perché comunque il tuo ambito è quello e la stessa cosa succede per chi fa sport, sarà portato sempre ad incontrare degli sportivi. Come non solo, in questo caso, visto la denuncia di Chambers della settimana scorsa che ha assunto 300 tipi di sostanze diverse, lo sport e il mondo della droga si sono molto… Io ho preso ogni tipo di droga e adesso sono ben contento di averlo provato e sono ben contento di esserne uscito. E speri di comunicare anche la contentenza di esserne uscito? Io voglio comunicarlo, voglio comunicarlo… Ci riesci benissimo perché il tuo libro è, come sei definito in fondo, appassionato, quindi la gente non può che venire coinvolta dalla lettura. Però hai detto una parolina magica, che è la parola chiesa, se uno va in chiesa, quella è saltata fuori per caso, ma non a casa, niente accade per caso. Niente accade per caso. Sei conscio che quando si parla dei propri tempi, diciamo i profeti alla fine parlano di oggi, quando si parla dei propri tempi, si raccontano le proprie esperienze, si fa anche un po' di politica? Te lo dico perché, a proposito di chiesa, mi ha colpito un paio di frasi che sono leggibili a pagina 149 del tuo libro. Perché mentre Gesù aveva la pelle color ebano e i capelli scuri, la chiesa cattolica ce lo propone da sempre come un biondino con la carnagione pallida? Veniva da Betlemme o da Comacchio? Provate a rifletterci, la prima multinazionale al mondo è proprio il Vaticano, ma chiediamoci dispensa amore e fede o vende e promuove prodotti folcloristici? C'è molta coscienza di quanto il messaggio ideale e la realtà ai me siano diversi, qui si fa politica? Qui si fa politica, sì, sì, io sono polemico, non sono… il fatto è questo, che io rispetto tantissimo, io credo, ho una fede molto forte, non so dirti se credo in Dio o in Buddha o in Allah o in chi che sia. Nel trascendente. Io credo. Si vive nel tuo libro questo tuo anelito diverso. E di conseguenza rispetto ogni individuo che viva questa fede, in modo sincero e in modo sereno. Quello che vedo purtroppo e che mi dispiace tanto è che il Vaticano non rispecchia e non riflette più neanche il credo dei suoi fedeli. Ed è vero che… Credo che sia ogni giorno più visibile. Lo stavo dicendo in radio… Il distacco totale tra istituzioni… Sì, sì, lo stavo dicendo in radio l'altro giorno, il credo comune sta diventando io sono fedele perché non credo nel Vaticano. Ahimè la gente comune che vive per strada fa questi discorsi sempre di più. Sì, voglio dire, è anche vero che poi la verità ha sempre due facce, non che questa sia la verità, è una mia opinione, però è anche vero che poi la gente è anche meno portata dagli stimoli continui della società a poter credere o ad appassionarsi ad un discorso di fede. Non ho un'ipnosi generalizzata… Sono le induzioni di massa che mi spaventano tanto. Questa è l'ipnosi prodotta dall'appiattimento delle emozioni, cosa che il tuo libro cerca di combattere. No, le emozioni non sono appiattite, le emozioni sono pluristimolate, anzi… Forse troppo, per cui sono indistinte. La paura. La paura. La paura è fondamentale per detenere il potere. Per la politica, per tutto. Per detenere il potere. Sì, 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 la tensione, quel filo di tensione sottile ci deve essere sempre perché se no la politica non avrebbe modo di esistere. Non avrebbe senso. Potremmo fare da soli. Sì. Senti, un altro argomento che mi ha molto colpito perché ho avuto in passato così interessi sociali legati al mondo del disagio sociale, eccetera, eccetera. Nelle tue esperienze che racconti, mi pare attorno al 2002, così, sei sempre senza soldi, sempre in difficoltà, sempre a rabattarsi per, come si dice, sbarcare il lunario così, e racconti pure di un'esperienza veramente da barbone. Sì, sì, non gli ho fatto nulla. Periodi in cui dormivi sui treni, andavi qua e là a cercare cibo, eccetera, eccetera. Controllori di Mezz d'Italia lo possono confermare. Ecco, tu c'eri, tu c'eri su quei treni a passare le giornate. Raccontaci qualcosa di questa esperienza, come ne sei uscito, perché io purtroppo ho lavorato molto in questo campo e ho visto sempre più abbandono da parte delle persone. Quando prendi una china è difficilissimo uscirci. Beh, ma forse anche perché sapevo che non era poi la mia strada. Che era trasitorio. Sì, che era trasitorio. Alla fine è stata una scelta. Ripeto, il mio libro parla di tutto quello che un uomo nella vita non dovrebbe mai fare. Non dovrebbe fare. E che io ho fatto, naturalmente. Il barbonaggio è derivato. No, non è vero che io ero sempre senza soldi. Anzi, di soldi me ne sono fatti tanti, ne ho spesi tantissimi, perché solo la mia famiglia mi diede, ho dissipato veramente un patrimonio, non indifferente. Sempre in alcol e droghe in… Espedienti. Donne. Donne. Mi fai ricordare George Best che diceva il 75% di quello che ho guadagnato nella mia vita l'ho speso in donne, automobili, alcoli, il resto l'ho sprecato. Infatti, infatti. Per cui… No, io cercavo la fine. Io cercavo la fine, non avevo orizzonti, mi salvava questa idea della musica, questa idea del mio modo di poter fare arte. però al tempo stesso erano più predominanti in me altri tipi di desideri, insomma, anche di rancori. Sì, ho fatto il barbone a Parigi, ho fatto il barbone in Italia. Ma sapevi che era un periodo? È stata un'esperienza molto bella. Triste, brutta, violenta, sporca. Ecco, è proprio quello che ho notato, c'è una specie di solidarietà tra disperados. Quando parli anche delle persone più incerte che hai incontrato, alla fine c'era qualcosa per cui uno un po' si sosteneva con l'altro. Questo si sente. Tante paure e tanto dolore accomunano sempre. Mettono qualcosa in comune che è difficile di mettere in comune. Creano dei fili, dei legami a volte anche improbabili, no? Fare il barbone è stata un'esperienza sporca, però anche affascinante al tempo stesso. Perché ho iniziato a vedere il mondo con occhi differenti. È strano, ma... Forse per la prima volta ti sei accorto che c'erano anche gli altri, non come un'entità astratta, ma molto reale. E vedi le persone sotto ottiche differenti nel vero senso della parola. Quando esci, quando vai al bar a prendere un caffè, tu entri, prendi il caffè, paghi. Puoi essere vestito bene o male, però sei una persona che... Se entri come un barbone, in un bar, ti cacciano fuori. Ti trattano male, non tutti, perché c'è, per carità, però nella maggior parte dei casi, in una città come Milano, è così. Senti, bene, questo ci fa capire, cari amici, quanto sia pieno di motivi, di interesse questo libro. Una cosa invece che abbiamo solo accennato è proprio il tuo lavoro nel campo musicale. Di cui io so, pur essendo uno che ascolta musica, so molto poco. Raccontaci un po' se è un'esperienza artistica conclusa, ancora in essere, se ti dà ancora soddisfazione, ricercare anche nel campo musicale. No, no, mi dà soddisfazione. Stiamo lavorando adesso... Hai ancora etichette discografici indipendenti? Dio grazie, non posso più produrre niente, perché mi sono veramente tolto dal mondo della produzione, anche perché economicamente non me lo potrei permettere. No, no, sto lavorando adesso... è uscito adesso il mio disco, che è solo su... ho solo online. Io no speak English. Io no speak English. Che è carino. Sì, sì, è carino. Annotate che possiamo scaricare. Ci sono vari artisti che hanno collaborato con me, anche Fat Cat Hackett. e sto collaborando con Maria Rossi, l'attrice, la cabarettista, per il suo disco. Abbiamo già fatto tre versioni, in più seguo alcuni artisti, però a livello di... sotto il profilo della passione, insomma, della motivazione. E la musica è fondamentale, perché io non riuscirei mai più a scrivere un brano senza vederne le immagini e non posso più, perché non ci riesco, creare delle immagini senza pensare a... Senza sentire la musica interna alle immagini. Beh, vedete in questo modo quanto si possa essere poliedrici, ma fare comunicare i vari modi di espressione propria con un prodotto finito, poi perché alla fine quello che fai, fai film, fai dischi, eccetera, eccetera. E libri, e libri, e libri. A proposito di libri, per avviarci serenamente alla conclusione, volevo ancora una volta chiederti un commento a un tuo scritto che trovo nella prefazione a pagina 7. Ti fai una domanda in fondo retorica, perché poi è lo scopo per cui si fa una prefazione, introdurre la lettura del libro. Può un uomo rivoluzionare la sua vita e divenire una persona migliore quando sa di aver toccato il fondo intorno a solo buio e desolazione? Ti sei risposto. Sì, sì, io voglio. Ampiamente. Sono qua. Bene. Era ovviamente una domanda retorica, anche la nostra conclusione voleva essere così, amichevole e dire, ok, ce l'ha detto Paolo, ce la si può fare. Però, proprio ancora per chiudere sul discorso del genere, perché io da scrittore, amante di libri e non avendo più sott'occhio autobiografie da anni, ho trovato doppio motivo di interesse a tutto quello. Per cui, per chiudere, se sei d'accordo chiudiamo, se no facci un commento ancora benissimo, vi direi questa ultima citazione di Paolo da pagina 105 del suo libro. A mio personale parere, nessuno dovrebbe mai rinnegare il proprio passato, anzi, dovrebbe essere in grado di accettarlo e condividerlo serenamente con tutti. Bello o brutto che esso sia stato. Ognuno dovrebbe trovare la forza di regalare agli altri questo tipo di sincerità, mettendosi a nudo dicendo, eccomi, sono qua, oggi sono e ieri sono stato, questo e questo, né più né meno sono io. Credo che sia una bellissima conclusione della nostra conversazione e per capire, cari amici, su che cosa vi potrete arrotolare e condividere nella lettura di questo libro, che vi ricordo è Paolo Galassi, Stop, Rewind, Replay, la vera storia del più conosciuto tra gli artisti sconosciuti. Tabu Lafati è l'editore, vediamo di dare anche qualche indicazione online, sì, l'editore ha il suo sito, www.edizionitabulafati.it, senza punti intermedi. Che saluto perché sono veramente, Marco Solfanelli, sono davvero in gamba. Benissimo, quindi motivo in più per concentrarci su questo libro di Paolo, al quale come al solito chiedo di perfezionarmi e personalizzarmi una dedica per la mia prestigiosissima collezione. Chiudiamo amici con la nostra perla abituale che ovviamente cerchiamo di rendere sempre più affine e confinante con quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. La citazione oggi è anonima e secca. Chi scrive non riesce in genere a nascondere nulla, questo è il caso di Paolo Galassi. Il secondo versante è scrivere è la ricerca della pace che non abbiamo, almeno per esorcizzarla non potendo averla. Grazie dell'ascolto e arrivederci al prossimo incontro. Grazie a voi. Grazie a voi.